Vai. Ciao a tutti, un po' di tempo fa ho avuto l'onore e il piacere di vedere esibirsi su un palcoscenico i ragazzi dell'arte nel cuore, un'accademia che fa lavorare e esprimere su un palcoscenico dei ragazzi disabili e normodotati, sono davvero bravi, è stata per me un'emozione fortissima. Mi piacerebbe un giorno trovarmi con qualcuno di loro su un set di un film o una soppopera, anche di una pubblicità e dimostrare molto quanto sono veramente bravi. Se anche voi condividete questo pensiero, condividete questo video e cliccate mi piace. Io sono con arte nel cuore e voi?